Rimpasto alla regione siciliana dopo il voto europeo. Si cerca spazio per Massimiliano Giammusso e Francesco Cascio, in attesa della scelta di Edita Maio. Il voto conferma a Forza Italia il primo partito in Sicilia e una tenuta complessiva dell'area di centrodestra. L'esito delle urne mette in discussione l'equilibrio in seno alla giunta regionale di Renato Schifani. Intento del governatore è quello di non stravolgere la distribuzione del peso delle deleghe. Il rimpasto dovrebbe farsi dopo il 26 giugno con la pronuncia del Tribunale del Riesame sulla posizione giudiziaria dell'assessore all'agricoltura Luca San Martino. Potrebbe incidere sulle deleghe alla Lega, in forse anche l'avvicendamento dell'assessore alla formazione Mimmo Turano, che ha avuto un risultato elettorale migliore rispetto ad Annalisa Tardino, considerata prima del voto la subentrante. Nella casella dell'economia lasciata vuota da Marco Falcone, Schifani vorrebbe l'economista Giovanni Lavia. L'altra delega di peso in ballo è la Sanità, dove è data per uscente Giovanna Volo, ma molto dipende anche dalle mosse di Edita Maio. Il record man delle preferenze in Sicilia in un faccia a faccia con Tajani dovrebbe decidere se restare a Palermo, così il seggio a Bruxelles andrebbe a Caterina Chinnici, che altrimenti potrebbe ambire in un posto in giunta. Se Tamaio lasciasse l'Ars entrerebbe Francesco Cascio, in caso contrario sarebbe Lizza per una delega. In casa Fratelli d'Italia si candida per un assessorato Giussi Savarino, ma preme anche Massimiliano Giammusso, forte degli oltre 42.000 voti alle europee. A fare spazio dovrebbe essere Elena Pagana, assessora all'ambiente, ma potrebbe entrare in gioco anche la delega di Francesco Scarpinato, visti i contrasti con Schifani.